Oggi le imprese in grandissima parte, certamente tutte quelle internazionalizzate, quelle che stanno anche aperte, hanno capito che o fanno prodotti e servizi sostenibili e come tali possono essere accettati e quindi condivisi dalla clientela o hanno comportamenti coerenti e quindi anche come soggetti sono apprezzati come marchio oppure non hanno un futuro. Quindi di fatto quello che prima era un addendum adesso è diventato un elemento strutturale del processo produttivo il che significa che c'è un grande spazio per fare di più e una grande sfida per tutti per accelerare l'attenzione anche alle problematiche di sostenibilità non solo ambientale ed economica ma anche sociale.